Ci vogliono due anni di contribuzione per fare un anno di pensione. Se si va in pensione presto, con 40 anni di contribuzione, di fatto si sono accumulate risorse per pagare 15-20 anni di pensione. Questa storia di andare in pensione troppo presto fa sì che a pagare sia qualcun altro, siano i giovani. Le difficoltà gravi sono quelle legate alla dimensione del nostro debito pubblico. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!